Un anno e mezzo in due ore, la conferenza stampa di inizio anno è stata per il Presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico occasione per ripercorrere i primi passi di questa nona legislatura e lo ha fatto insieme all'Ufficio di Presidenza al completo nel segno, ha sottolineato, di una grande unità di intenti e di un attento lavoro di squadra. Alla conferenza stampa moderata dal portavoce Domenico Nunnari il Presidente ha detto, ci lasciamo alle spalle un anno complesso e difficile, segnato da una pesante crisi economica che ha cascato a prodotto tagli sui trasferimenti agli enti locali ma anche da un rinnovato senso di responsabilità con le forze politiche tutte a far quadrato intorno al governo Monti. Quella stessa unità a cui come regione dobbiamo ispirare le nostre scelte e il nostro agire futuri. Perché dalla crisi si uscirà solo se a guidarci, ha aggiunto, saranno parole come bene comune e solidarietà ed archiviando quella litigiosità a cui la politica ci ha abituati. Poi un richiamo perché in Calabria si lavori ad una pacificazione territoriale. Non si sottrae alle domande neanche a quelle più scomode il Presidente Talarico. Tra i detrattori della nostra regione c'è anche certa stampa, ha detto, non credo che l'impegno del Consiglio si misuri dal numero di sedute quanto piuttosto dall'efficienza e dalla qualità del lavoro. Poi una carrellata di quanto fin qui realizzato, riduzione dei costi della politica, impegno per la legalità e trasparenza, investimento nella cultura e dialogo permanente con i giovani sono state addette le nostre dirittrici principali di intervento. Il pieno rispetto anche quest'anno dei tempi di approvazione del bilancio ha permesso inoltre la movimentazione delle risorse necessarie al funzionamento della regione in tutte le sue articolazioni. Per il prossimo anno mancheranno due voci di spesa, quella per i bronzi che faranno un ritorno a Palazzo Piacentini e quella per gli staggisti. Sottolineato che il 2012 sarà l'anno di un'ampia riforma di sistema degli enti sub regionali in primis, si proseguirà lungo il tracciato della legalità dopo un tormentato 2011 che ha visto l'arresto di ben due consiglieri regionali.